Ok. Guarda, il sigillo di Thomas Tew. Quindi questa è la sua villa? Comandante in seconda, quasi in cima alla gerarchia. Santo cielo. Siamo arrivati alla festa. Mi sa che siamo in ritardo. Ehi, Nate. Guarda qua. È un altro sigillo. Oh mio Dio. Che c'è? Sono loro. Elena, sono i capitani pirata che hanno fondato Libertalia. Che diavolo è successo qui? Beh, non sono della scientifica, ma direi... Alcol scadente? Probabile. Pensi sia stato una specie di suicidio collettivo di un culto pirata? Non credo. Non è da loro. Al nome di Lord Avery, siete invitati nella mia villa domani al tramonto. È finalmente giunto il momento di cessare le ostilità e radunarci sotto il vissillo di Dio e della libertà. Firmato Thomas Tew. Tu che dici? Thomas Tew. Henry Avery. Gli anfitrioni sono scappati senza sparecchiare. Non molto elegante da parte loro. Bene, quindi questi hanno scatenato una vera rivolta decidendo di tenersi il tesoro. Avevano eliminato i coloni, ma avevano questioni tra loro. E suppongo che le cose si... siano incasinate. Quindi Avery e Tew invitano gli altri qui, per... come diceva... Cessare le ostilità. Cessare le ostilità, sì. Avery propone un bel brindisi. Addio alla libertà! Per mille balene e tutto. E tutti bevono un sorso. Tranne loro due. E in un attimo... il tesoro di Libertalia diventa proprietà esclusiva. Di due uomini. Erano... i più grandi pirati della storia. E sono tutti morti. In un istante. Tutti a questa tavola. È incredibile. Già. Ehi, mi spiace. Io... Mi spiace. Tutto ok. Quindi, visto che i nostri anfitrioni non sono alla villa di Tew... Dovremmo andare da Avery. Già. Andiamo. Già. Ehi. Grazie a tutti.